La varia di Palmi sbarca all'Expo di Milano ad annunciare l'evento il presidente del comitato varia Pino Randazzo. La regione Calabria, dice Randazzo, ha acquisito il diritto alla fruizione di una settimana di protagonismo all'interno dell'Expo dal 25 al 30 settembre, la settimana che sarà caratterizzata dalla degustazione delle eccellenze agroalimentari calabresi, verrà aperta dai giganti Mate e Grifone, che accompagnati dai tamburinari sfileranno e danzeranno nei padiglioni dell'Expo milanese. Un modo per Palmi di mettere in mostra una delle sue attrattive più caratteristiche con il loro ritmico suono, pronti a conquistare anche la platea milanese, italiana e internazionale dell'Expo. Questo è non solo per la città di Palmi, come spiega il presidente Randazzo, sarà un'attrazione unica per le migliaia di turisti di tutto il mondo, che si faranno trascinare da quella musica di festa che accompagnerà la spedizione palmese. È bello pensare che la Calabria e Palmi saranno protagonisti all'interno di un evento mondiale. A ciò si aggiunge la giornata dedicata alla Varia, patrimonio dell'UNESCO. Domenica 27 settembre verrà infatti proiettato il filmato della Varia 2014 insieme ad una mostra fotografica dedicata alla maestosa festività, un modo per far conoscere ulteriormente la Varia che è il primo riconoscimento UNESCO della Calabria in vista dell'edizione già in calendario per la prossima estate.